E' una stagione che abbiamo programmato in un certo modo e adesso commentavamo con tutto lo staff, a parte che ringrazio loro prima di tutto per essere stati vicini, però è dura. E' andata molto bene, anche se la faccia non lo dice. Non ci aspettavamo di fare un anno del genere, però l'abbiamo fatto. Ci siamo meritati una bella la quinta, abbiamo vinto una coppa, abbiamo vinto la glass season, abbiamo perso un giocatore, ne abbiamo inserito un altro durante l'anno. Sono tante cose che sembrano scontate, sembrano facili da fare, ma non sono mai facili, sono sempre cose difficili, mantenere l'organico concentrato tutto un anno. Abbiamo inserito quattro giocatori del settore giovanile, grazie al gran lavoro che si fa del settore giovanile e quindi era un anno che era stato programmato in questo modo. Ci prendiamo un attimo, penso tutti, e poi ci riguarderemo negli occhi come abbiamo fatto un anno fa e penseremo a quello che sarà il nostro futuro. Nel frattempo io auguro, se non dovessi essere io, auguro alla società Vibo di fare quello che merita, come sempre, da vent'anni. E con o senza di me, se è con me è ancora meglio.